Ecco le parole di Biagio Danelli sul presunto flerta avvenuto tra Elena e Lorenzo Prosegue il percorso dei concorrenti nella casa del grande fratello e negli ultimi giorni molti inquilini e molti telespettatori si sono insospettiti del rapporto tra Elena Prestes e Lorenzo Spolverato. I due infatti sembrano nascondere qualcosa che riguarda la loro vita fuori dal reality ma a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il noto esperto di gossip Biagio Danelli. L'uomo infatti sostiene che Lorenzo ed Elena abbiano avuto un flirt fuori dal programma. Fermi tutti. Dopo il segreto e il peccato e la vergogna il remake di un noto film del compianto Alberto Sordi io so che tu sai che io so interpretato magistralmente da Lorenzo ed Elena questo orecchio magico l'orecchio magico ha avuto una conferma della stessa. Fuori i due giovani hanno avuto una che tipo di liaison e Lorenzo fa di tutto per nasconderlo e sta raccontando bugie su bugie per non far arrivare il tutto soprattutto alla sua bella Shaila. Signori miei noi ci meritiamo la verità, Alfonso ci deve far raccontare la verità. Aspetteremo con ansia il racconto dei piccioncini perché è giusto dire la verità soprattutto perché ho visto anche delle foto.